Sto morendo di caldo, porca miseria, sto a morire E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Qui è Pablo Giallorosso, scusate la qualità, sto con il telefono Perché devo fare un video velocemente, non ho proprio un minimo di tempo fino ai primi di luglio Però ragazzi, Karsdorp, Karsdorp, insomma quello che sembra un Pokémon de nome Un nuovo giocatore della Roma, arriva per circa 15 milioni complessivi dall'Olanda, dal Feyernud E dunque, è un nuovo difensore giallorosso Allora, è un buon colpo, un buon acquisto, giocare a tersino destro È duttile perché può giocare anche a centrocampo, molto bene, ci fanno comodo giocatori simili È in gamba, non è un fenomeno, non è Roberto Carlos, ma non è nemmeno Ivan Piris, per farvi capire Un buon giocatore, un buon tersino, non mi posso lamentare come acquisto Però tocca vederlo ovviamente, bisogna aspettare che dimostri qualcosa Il calcio olandese è diverso da quello italiano, senza ombra di dubbio, deve dimostrare quanto vale Sono felice perché come riserva va benissimo E oddio, abbiamo Bruno Perez a destra Che possa esplodere Bruno Perez Non nel senso della parola, boom Anche se magari l'anno scorso un pensierino, vabbè a parte gli scherzi Che possa tornare Bruno Perez e Torino Florenzi a quanto pare tornerà a centrocampo, tornerà a fare la mezzala all'esterno, insomma, quel che sia Non sarà più un tersino della Roma Perché abbiamo già Bruno Perez e Karlsdorp Quando imparerò a pronunciare questo nome, fatemi una statua E a sinistra è Emerson Palmieri E mi sa che la Roma vuole puntare un altro giocatore Perché Mario Lui ha un passo dal Napoli Ma questa è un'altra storia Un altro video E la Roma pare anche un passo da Gonalonza Anche qui parleremo di un altro video E la stessa cosa vale per Manolas e Paredes Non ho nient'altro da dire riguardo il colpo di Karlsdorp Se non che l'abbiamo scippato all'Inter Perché lo voleva, sì, l'Inter qualche settimana fa Pareva ormai a un passo il giocatore olandese della squadra nera azzurra Se lo siamo accittati noi Benissimo E niente Benvenuto a Roma Ho già fatto le visite mediche E è arrivato stamattina Niente ragazzi Questo è il video qui Lasciate un like, un commento Iscrivetevi Da Papagiorno adesso è tutto Adios